Sei stato un buon padre. No, non sono stato un buon padre. Fuori, fuori! Non mollate! Non mollate! Devo dire che il numero di salto con la corda è fortissimo. So che hai trasferito 5.000 dollari dei nostri risparmi sul tuo conto corrente. Possiamo parlarne stasera. Salve, lei è l'agente immobiliare, giusto? È un piacere conoscerla. Le mostro la casa. Questo è il mio primo posto preferito. La Camera della Guerra. Scrive preghiere per ogni cosa che le accade. La mia strategia. Farebbe anche al caso mio. Dovresti andarci domani, è brava? Sto fuori una settimana. Quando pensavi di dirmelo? Te lo sto dicendo. Tony, il mio agente preferito. Ciao, come va? Vorrei tanto vivere a casa tua. Quando i miei genitori stanno insieme, litigano sempre. Tento! Non me l'hai mai passata. Era più facile acchiappare un gatto. Avevo voglia di sfogarmi, ok? Se c'è una cosa che facciamo bene è litigare. Non far scoppiare la guerra mondiale a casa tua. No, non ci tengo proprio. Spesso scontrarsi non vuol dire combattersi come si deve. Tu devi supplicare il Signore in modo che intervenga come solo lui è capace. E poi devi toglierti di torno e lasciarlo fare. Questo significa condurre la tua battaglia nella preghiera. Nessuno ha mai fatto quello che hai fatto tu. È il momento di sfilarsi i guanti bianchi e combattere per il tuo matrimonio. Abbiamo bisogno di un esercito, di credenti. Signore, chiamaci alla battaglia. Ispirali, Signore! Ispirali!